L'importanza di avere Obama qui a Milano per SIDA e CIPSA? Ovviamente è una figura che richiamerà attenzione, noi oggi questo dobbiamo fare, coniugare i contenuti e devo dire che SIDA e CIPSA ha i suoi contenuti ma anche il Comune di Milano si sta sforzando di definire una serie di contenuti rispetto anche al patto con le altre città, ma la visibilità e la visibilità mediatica saranno ovviamente amplificati dalla presenza di Obama. Ora quello che mi stavano dicendo qui a margine è che probabilmente in effetti sarà la prima uscita pubblica del Presidente dopo la fine del mandato, mi sembra una cosa straordinaria che venga a Milano per un obiettivo tra l'altro così alto. Verrà anche a Palazzo Marino per la posizione di sigillo o verrà via? Io ci terrei, stiamo verificando un po' la sua agenda, certamente ci terrei, sarebbe il luogo ideale per consegnare il sigillo e se no andrò io da lui.